Nel 2500 a.C., sull'incantevole isola di Creta, fiorì una straordinaria civiltà, conosciuta anche come Minoica, in onore del suo celebre re, il leggendario Minosse. Situata nel cuore del mare Geo, al centro del Mediterraneo orientale, Creta emerge come la più grande e popolosa isola della Grecia, sebbene il suo territorio sia prevalentemente montuoso. La vita cretese era intrisa di attività agricole e di un fiorente settore turistico, sostenuto dalle incantevoli spiagge circostanti. Tuttavia, la vera ricchezza di questa civiltà proveniva dal mare. La posizione centrale di Creta nel Mediterraneo facilitava gli scambi commerciali con le altre isole greche e la terraferma, mentre il mare fungeva da barriera naturale contro i nemici. La ricca copertura boschiva delle montagne forniva il legno necessario per la costruzione delle imbarcazioni. I cretesi erano noti per la loro pacificità e vivevano in magnifiche città come Knosso, Festo e Maglia. Ognuna di queste città era indipendente e governata da un re sacerdote che risiedeva in un grande palazzo al centro della vita cittadina. Questo è il motivo per cui spesso ci si riferisce a queste città cretesi come città-palazzo. Verso il 1450 a acquistare, la civiltà cretese svanì in modo misterioso. Alcuni storici suggeriscono che una violenta eruzione volcanica nell'isola vicina, oggi chiamata Santorini, potrebbe aver scatenato uno tsunami devastante che colpì le coste cretesi. Altri ipotizzano che gli attacchi dei Micenei, un popolo guerriero proveniente dalla Grecia, siano stati la causa della caduta di questa civiltà. I cretesi erano noti per essere abili mercanti e marinai, esportando vino, olio, lana, ceramiche e armi in bronzo in Anatolia, Egitto e Grecia. Le loro navi ritornavano a Creta cariche di materie prime e altri prodotti, come lino, cotone, stagno, rame e metalli preziosi, che erano rari sull'isola. Queste ricchezze accumulatesi permettono loro di organizzare spedizioni per scoprire nuove rotte commerciali. La flotta cretesi era così potente che controllava l'intero Mediterraneo orientale, un potere commerciale ed economico conosciuto come talassocrasia. Le navi cretesi, slanciate e agili, erano equipaggiate con due timoni e parapetti laterali. Erano spinte da grandi vele e, se necessario, da 30 rematori disposti su entrambi i lati. I cretesi navigavano principalmente da marzo a novembre, quando i venti erano più favorevoli. Ma i cretesi non erano solo marinai, erano anche abili agricoltori e allevatori. Grazie al clima mite, coltivavano cereali, viti e olivi. Sulle colline, allevavano pecore e capre. Nelle zone montose, cinghiali e cervi costituivano una fonte importante di cibo, mentre i boschi fornivano legname per la costruzione di attrezzi e imbarcazioni. L'artigianato cretesi era altamente apprezzato. Producono oggetti in bronzo, tessuti e ceramiche, oltre a gioielli splendidamente realizzati con metalli preziosi. Hanno sviluppato un tipo di decorazione ceramica con motivi geometrici chiamato stile Camares, dai nomi dei vasi ritrovati in una località omonima. Ogni città era guidata da un re noto come Minosse, che risiedeva nel palazzo e deteneva un potere assoluto. Seguivano funzionari responsabili della direzione e del controllo delle attività commerciali, agricole e artigianali. I sacerdoti organizzavano riti e grandi festività in onore delle divinità. Il resto della popolazione comprendeva abili artigiani, agricoltori, allevatori, pescatori e marinai. Questi cittadini avevano l'obbligo di pagare tributi per sostenere la famiglia reale, i funzionari e la potente flotta. Verso il 2000 a acquistare, i cretesi svilupparono un sistema di scrittura basato su geroglifici, semplificato successivamente per agevolare gli scambi commerciali. Questa forma di scrittura, nota come linearea, consisteva in circa 70 segni sillabici. Sebbene siano state scoperte numerose iscrizioni su Creta, nessuno è ancora riuscito a decifrarle completamente. Rendendo molti aspetti della vita quotidiana dei cretesi ancora un mistero. Grazie a dipinti rinvenuti sull'isola, sappiamo che le donne cretesi godevano di un certo grado di libertà. Partecipavano alle feste, ai banchetti e persino alle competizioni sportive. Le donne curavano molto il loro aspetto, indossando gonne e corpetti aderenti, gioielli con pietre preziose, trucco e acconciature elaborate. I cretesi erano politeisti e adoravano elementi naturali come alberi e animali, in particolare il toro, simbolo di forza e della civiltà minoica. Veneravano anche divinità antropomorfe, come la Dea Madre, considerata la creatrice della vita e portatrice di fertilità. A differenza di altre culture, a Creta non sono stati ritrovati templi. Le cerimonie religiose si svolgevano probabilmente all'aperto, in luoghi naturali come boschi e grotte. Gli archeologi, durante le loro ricerche, hanno scoperto numerosi reperti, tra cui vasi, gioielli e statuette, che erano offerti alle divinità. I sacerdoti e le sacerdotesse avevano il compito di organizzare riti e festività in onore delle divinità. Uno dei riti più spettacolari era la Tauro-Catapsia, una gara acrobatica in cui si cercava di afferrare un toro per le corna, compiere acrobazie sul suo dorso e atterrare in piedi dietro di lui. Sorprendentemente, anche le donne potevano partecipare a questo rito, come attestato dagli affreschi rinvenuti. Oltre alla Tauro-Catapsia, i cretesi praticavano altri sport, come la corsa e il pugilato. Il loro stile di vita attivo e la passione per l'attività fisica li rendono una civiltà dinamica e vigorosa. La città-palazzo più famosa e imponente di Creta era Knosso. Oltre a essere la residenza del re, comprendeva più di mille stanze, magazzini, laboratori e cortili. Poiché il mare costituiva una difesa naturale, le città-palazzo non erano racchiuse da mura fortificate, il che permetteva loro di espandersi continuamente. In conclusione, la civiltà minoica di Creta, con la sua ricchezza derivante dal commercio marittimo, le abilità artigianali, la cultura sportiva e le pratiche religiose uniche, ha lasciato un segno indelebile nella storia antica. Nonostante la sua scomparsa misteriosa, il suo patrimonio culturale continua a suscitare fascino e curiosità. E Creta rimane un luogo di grande interesse per gli amanti della storia e dell'archeologia.